18 minuti per fare 60 chilometri E che ci vuole? Qui elicottero! Le macchine stanno arrivando! Tieni le d'occhio fino al circuito e non fartele scappare! Ti restano 15 minuti per qualificare le macchine, dopo non potrò fare niente Il camion ha avuto un incidente, arriveranno dalla strada Dalla strada? Sì, dalla strada Se le fai entrare dalla Virage Porsche possono ancora fare un giro lanciato René, la 24 ore senza Levaia non è una vera 24 ore Dacci una chance Avvertite la porta 8 di lasciar passare a Levaian Grazie René Ma ti avverto, devono passare davanti al cronometro prima della fine del tempo regolamentare Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ancora nessuna notizia delle Bayan La sessione di prove terminerà tra meno di 15 minuti E le macchine non sono ancora i box Devo che saranno eliminate E' un'emergenza, verrà l'elicotterista a pagare Ma anche l'elicottero deve fare il piano come voi No, penso di no Resta soltanto un minuto, 60 miseri secondi Tempo che a questo punto le Bayan verranno eliminate Ma eccole che arrivano Le due macchine stanno entrando dalla porta della Mirage Porsche Vai così, Michele Dai, Michele, dai Dai così Dai Fatto, sono forzate Sono riuscite a qualificarsi Molto bene, troveremo tutto le Bayan domani pomeriggio La partenza di questa settantesima edizione della 24 ore di Le Mans